Vediamo ora ancora altri tipi di accordi. Do minore settima quinta più, formato dal Do, Mi bemolle, Sol dieci, Si bemolle, sul primo capo tasto è questo. Do minore settima quinta minore, formato dal Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle, sul primo capo tasto è questo. Do minore settima più, quinta più, formato dal Do, Mi bemolle, Sol dieci, Si, sul primo capo tasto è questo. Do minore settima più, quinta minore, formato dal Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Si, sul primo capo tasto è questo. Do minore settimana, formato dal Do, Mi bemolle, Sol dieci, Si, sul primo capo tasto è questo. Do minore settimana, formato dal Do, Mi bemolle, Sol dieci, Si, sul primo capo tasto è questo. Do minore settimana, formato dal Do, Mi bemolle, Sol dieci, Si, sul primo capo tasto è questo.